Allora poi ti stufi a fare, insomma, che i soldi facili, residence, così, allora c'era un'inserzione, un giornale, cercava un laureato in chimica, che sapeva il tedesco, un bel posto, disposto a star via per conto della dignità, io pur non avendo i requisiti, perché ho fatto la terza media serale alla camera del lavoro di Lodi, sono dato uguale al colloquio, sono presentato che puzzavo di vino, c'è lo psicologo lì, ma lei beve? Sì, l'impiegata ti amo, ma è più ferma, è più ferma, è più ferma, no, 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 sono stato in carcere anche opera, non dica tutto, dobbiamo risalire noi a, no, no, dica tutto, mi voleva, e vedi che il suo figlio berrà, penso, perché mio nonno saltia dentro, faccia, si parla, avevo su cui capotti color carta di zucchero delle ferrovie, stavo bene, qui una manica via tatuata un'incudine spaccata a metà, che era il simbolo di quella ditta, per cui, non è più figa qua, nemmeno il presidente è tatuato male, poi per essere completo come candidato, ho messo nel passo ventre una mela, dico, dottor, ha una struttatura inguinale in fase avanzata, appena assunto mi faccio operare, a spese della ditta, sto a casa a tre mesi in malattia, sto vicino io, ma, eh, si parla, gli dice, a me, dottore, il psicologo fa risorse umane, sai, no, mi dice, come mai ha tutti questi timbri sul libretto di lavoro, guardi dottore, ogni due o tre mesi, senza motivo, cago posto e faccio causa alla ditta, adesso prendo confidenza, vedrete, ostia, che OBI gioco a soldi in ufficio, ma, mi hanno assunto, c'era formentini, referenze, dovevo ritirare i fusti di olio bruciato dall'ufficina in zona qua, e li vuotavo nel lambo. Come lavoro è facile, potevo andare a partire anche su Po, ma il lambo ci tiene, sono anni, si è sempre trovato bene, infatti una domenica avevo tempo tagliato gli alberi secolari invece sull'argine di Po, che sono tutti lavori che se non faccio io non fanno più. Poi, con i primi soldi guadagnati, mi sono messo il proprio, ho comprato un camion cisterna, di notte lo uso per ritirare il latte nelle cascine, e di giorno, vabbè, la pompa è quella. Va bene per tirare su il bianco e il nero, non è che reclami mai. Invece Formigoni, che è il presidente della regione, ha visto che ero deciso, mi ha dato in mano due scelle di molta. Io l'ho tenuta, poi l'ho venuta all'Ultra dell'India, per cui, comunque, poi ti stufi, fai quel lavoro lì, ti stufi, ho detto, vado a fare il dipendente da Matilde Vicenzi, che era l'amorosa di Giovanirana, per cui, lì, tu vai lì, d'abord alle cinque da dipendente, finisce.